Il paese va a destra e questo non lo dico io ma è evidente tutte le elezioni che si sono svolte dal 2018 hanno premiato ma non premiato, stra premiato la destra quindi che ci sia nel nostro paese uno spirito del tempo, un mood, un trend che va a destra mi sembra evidente e per la destra o il centrodestra che dir si voglia sicuramente la priorità non è lo use culture anche perché io lo voglio ripetere perché a casa lo devono sapere i bambini che vanno a scuola in Italia hanno gli stessi identici diritti dei bambini italiani hanno gli stessi identici diritti e doveri, non c'è nessun tipo di discriminazione, non c'è nessun tipo di trattamento di italiani sono penalizzati, ma quando mai, anzi sono penalizzati gli italiani, ci sono classi, ci sono classi ma è inutile che ridi, ridi in faccia a qualcun altro per cortesia perché a me proprio no, prima se stai zitta un attimo parlo invece di ridere, ma visto che parli sempre te, ci saranno ridere scusatevi grazie a tutti